La malattia è un pochettino in crescita sia per il migliorimento delle tecniche diagnostiche sia proprio perché è in crescita la malattia in Lombardia, in genere in Italia e nei paesi ad elevata industrializzazione. L'open day dedicato alla sclerosi multiple organizzato all'ospedale Sant'Anna di Sanfermo della Battaglia è stata l'occasione per far conoscere la patologia. Medici, psicologhe, un'infermiera specializzata del centro dell'unità operativa di neurologia dedicato alla malattia e i volontari dell'Aism, associazione comasca sclerosi multiple a sezione di Como hanno incontrato e informato i cittadini su questa patologia cronica del sistema nervoso centrale che può portare a diversi tipi di invalidità fino all'allettamento. Noi seguiamo 320 pazienti addoggi in vari gradi sia dall'approccio diagnostico sia all'inizio della terapia sia nel percorso progressivo nella fase secondariamente progressiva di malattia. Il centro sclerosi multiple è specializzato nella diagnosi e nella cura della malattia malattia che coinvolge 2 milioni e mezzo di persone in tutto il mondo è più comune nelle donne e più frequente nella fascia d'età tra i 20 e i 40 anni. La causa è ancora sconosciuta ma sono coinvolti fattori ambientali e genetici. Si tratta di una patologia cronica e complessa che richiede un team di specialisti che possa seguire il paziente. A questi si aggiungono i 35 volontari dell'Aism in prima linea per migliorare la qualità della vita dei malati e dei loro familiari. L'associazione, che ha sede in via Pasquale Paoli a Como, ha sempre bisogno però di nuovi aiutanti. Vuol dire volontari, abbiamo la possibilità di formarli, c'è posto per qualsiasi attività a seconda della disponibilità delle persone. L'assistenza parte già in ospedale grazie ad un infopoint dedicato che a San Fermo si trova al Poliambulatorio 2. Il mio ruolo in particolare è il colloquio con i neodiagnosticati per cui la persona che ha dei dubbi, delle perplessità può avere in questo colloquio anche tutti i riferimenti e risolvere un po' tutti i dubbi che si incontrano in questo cammino. La scorsa settimana è stata presentata, il primo firmatario è stato il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, la Carta dei diritti delle persone con sclerosi multipla, strumento che permette di superare al meglio gli ostacoli quotidiani anche nel lavoro. L'invito è dunque a promuovere la sottoscrizione entro il 21 giugno. Invito tutte le persone o a recarsi presso le sezioni o in questi momenti in cui siamo in piazza per la sottoscrizione della Carta dei diritti basta una firma oppure collegandosi sul sito, sul sito nazionale www.aism.it oppure sul sito di sezione www.aismacomo.it www.aismacomo.it www.aismacomo.it